Poi mi sono appassionato del vino. E' morto all'età di 89 anni Piero Pittaro, decano dei viticoltori friulani. Personalità di spicco nel campo enologico internazionale, Pittaro era erede di una famiglia di vignaioli con alle spalle 400 anni di storia. La sua azienda aveva il centro a Codroipo, nel cuore delle grave del Friuli, dove produceva vini bianchi e rossi. Costituì anche un museo del vino, dove altresì circa 5.000 oggetti di interesse legati alla storia della vite e del vino databili tra il 1600 e il 1930. Piero Pittaro fu presidente di Asso Enologi, presidente della cantina di Bertiolo e del centro vitivinicolo regionale, nonché presidente dell'ente Friuli nel mondo. Fino all'ultimo è stata la guida della sua azienda. Con Piero Pittaro scompare una personalità di grandissimo spessore, non solo per il mondo della viticoltura, ricordo che Pieri è stato per lunghi anni presidente mondiale degli enologi, ma anche un attento, capace, innovatore ed appassionato ricercatore qual era. Un grande friulano che ha rappresentato sempre i valori di questa terra. Ho avuto l'onore di condividere con il semplice contadino di Codroipo, così come amava definirsi. Piero Pittaro, da vignaiolo, rappresentante nazionale e internazionale degli enologi, ha saputo garantire al mondo del vino del Friuli Venezia Giulia competenza, visione e passione, in particolare per il settore della spumantistica.